Nel mondo di oggi saper vendere il proprio prodotto è diventato quasi più importante di saperlo produrre. Spesso però si confonde marketing e comunicazione. La comunicazione è quella che ci fa effettivamente arrivare poi all'orecchio della persona, ma tutto quello che c'è prima è uno studio alla base che fa parte del marketing analitico e che oggi con le possibilità che offre internet può essere sempre più sofisticato. Oggi siamo qua con Davide, il fondatore di Clickmeter, una startup che si è concentrata proprio sugli analytics e quindi sul permettere alle persone di raccogliere tutti questi dati. Davide parlaci un po' della tua esperienza, poi parleremo anche di Riprendli che è la nostra ultima iniziativa e come sei partito un po' come imprenditore prima di tutto. Beh io parto, sono partito molti anni fa, circa 15 anni fa con un altro progetto che forse qualcuno ricorderà che è University.it che permetteva lo scambo di appunti fra gli universitari e ho iniziato con i miei 5 appunti e siamo arrivati a oltre 40.000 appunti e poi ho venduto il progetto ad una società di Milano. Fatto questo ho creato un'agenzia web e uno degli strumenti che erano maggiormente utilizzati era un contatore di Click che avevamo prodotto internamente e che visto che era veramente qualcosa di molto buono per i nostri clienti abbiamo deciso di renderlo disponibile per tutti e è nato Clickmeter. Chiaro, voi siete partiti quindi qualche anno fa, avete poi seguito un'ottima evoluzione e oggi siamo qua a San Francisco a fare l'intervista dove avete una base operativa. Raccontaci un po' l'evoluzione di Clickmeter, come si è anche poi approcciata e affrontato il mercato internazionale. Beh noi siamo nati subito rivolti al mercato internazionale, quindi diciamo il software era già in inglese e anche tutto il supporto in inglese e da subito abbiamo avuto molti più utenti negli Stati Uniti che in Europa ad esempio e quindi abbiamo seguito questo filone fino ad adesso abbiamo oltre 120.000 utenti in 188 paesi nel mondo e appunto la maggior parte sono qui negli Stati Uniti. Cosa è che porta un utente americano? Cioè qual è la differenza tra l'utente americano e l'utente magari senza andare sull'italiano ma magari più europeo, magari sono più willing to provare le nuove tecnologie qua in America? Cosa porta il cliente americano a essere il primo ad adottare questa tipologia di soluzioni? Ci sono diverse differenze, intanto il mercato americano è molto più competitivo dal punto di vista del web marketing e quindi chi fa marketing in America è più portato a cercare nuovi strumenti e nuove tecniche per fare marketing. Quindi di fatto si può dire che gli Stati Uniti sono un pochino più avanti e sono quindi gli early adopters. Il nostro strumento è uno strumento abbastanza completo, abbastanza nuovo e quindi insomma per questo abbiamo più successo negli Stati Uniti. Ecco raccontaci un po' in cosa si differenzia anche ClickMeeter rispetto ai propri competitors, qual è stata la chiave che poi vi ha permesso di avere questo successo? Noi veniamo spesso paragonati per esempio a Google Analytics che è uno strumento eccezionale ma che fa una cosa diversa. Google Analytics permette di tracciare quello che avviene sul tuo sito, quindi sostanzialmente quale pagine sono viste, dove avvengono determinate conversioni eccetera eccetera. Invece ClickMeeter è uno strumento che aiuta a capire quali sono le sorgenti di traffico e quale di queste sorgenti di traffico sta funzionando meglio. Quindi di fatto quello che noi facciamo ti permettiamo di sperimentare tutto quello che è l'educazione di marketing e su un unico pannello capire immediatamente quale sta portando delle conversioni in modo che ti puoi concentrare solamente su quelle campagne ed eliminare le altre. Chiaro, voi siete appunto partiti già con un occhio al mercato internazionale, con un focus, più che un occhio al mercato internazionale. Come avete fatto poi? Qual è stata la vostra modalità di entrare fisicamente anche qua negli Stati Uniti? Tramite finanziamenti, tramite semplicemente un investimento che avete effettuato in prima battuta? Cosa vi ha portato qua? Cosa vi spinge ad essere qua anche fisicamente e come ci siete arrivati? Beh diciamo che intanto qui in Silicon Valley avvengono delle cose e si ha accesso ad alcune informazioni che in Europa arrivano con un po' più di ritardo. Quindi noi per essere diciamo sempre aggiornati su quello che succede e in contatto con i nostri clienti abbiamo bisogno di una presenza fisica qui. Ecco perché abbiamo un piccolo ufficio con delle persone che sono qui full time. Noi attualmente non siamo stati finanziati, quindi l'azienda è come si dice bootstrapped, però in realtà stiamo proprio cercando finanziamenti per questo nuovo progetto che è Ribrandly, che magari ne parleremo dopo. Sì no, anzi accennaci un po' anche perché lo stiamo iniziando a utilizzare anche noi. in cosa consiste Ribrandly, qual è la potenza di brandizzare il proprio link, il proprio shortlink, no? Certo, beh quello che avviene oggi nella stragrande maggioranza di casi ci sono circa 50 milioni di persone business che utilizzano gli shortlink e lo fanno nella stragrande maggioranza dei casi utilizzando un dominio generico. Quindi c'è per esempio Bitly, c'è Google, c'è Tani URL, ce ne sono migliaia che ti permettono di accorciare i tuoi link lunghi, però questo diciamo non è il modo ottimale di farlo. Quello che abbiamo capito noi anche dagli utenti di Clickmeter è che se tu puoi associare il tuo brand grazie al tuo dominio sostanzialmente al link che hai, questo ha molta più efficienza. quindi invece di avere un link tipo bit.ly slash abcd puoi creare un qualcosa come per esempio io ho davide.link slash cv e questo è molto più pronunciabile, si ricorda molto meglio e soprattutto anche dal punto di vista tecnico permette di avere un click through rate, quindi un rapporto fra quanti vedono il link e quanti lo cliccano, superiore del 34%, quindi ha anche un grosso impatto di marketing. E sostanzialmente la potenza del link diventa anche quella di essere non solo un mezzo di trasferimento ma anche un qualcosa che viene ricordato e può essere trasferito in maniera più semplice. Assolutamente, immagina che tutti i link che tu hai utilizzato, che hai condiviso nel corso della tua vita, che spesso sono migliaia, in cui non solo ne hai perso il controllo e quindi non sai quanti sono, quali sono, che traffico si stanno portando, ma sono totalmente discostati dal tuo brand, cioè tu hai fatto sostanzialmente un lavoro per condividere informazioni interessanti ma nessuno te lo sta riconoscendo. Certo, voi in pratica state iniziando a installare questa nuova parte del vostro business che poi immagino si è collegata anche a Clickmeter per fare poi l'analytics sul link ovviamente che viene creato con Rebrandly. Come fate, avete già una base di utenti piuttosto importante oggi, come fate a fare comunicazione, a ricercare i nuovi, cos'è che spinge un utente, nel vostro caso, a provare un nuovo prodotto quando effettivamente, come dicevi tu, c'è tantissima competizione sul mercato? Beh, allora intanto, sì, su Clickmeter c'è molta competizione, su Rebrandly è un prodotto assolutamente nuovo, noi siamo gli unici che sono allo stesso tempo un register, tipo per esempio register.it o Godeddy e uno shortener e un link tracking, quindi noi mettiamo insieme tutte queste cose che nessun altro fa. Come diciamo riceviamo traffico, come ci trovano? Beh, soprattutto tramite appunto interviste come questa qui, anzi ti ringrazio, e anche con il contenuto, noi produciamo del contenuto sul nostro blog che è molto specifico e molto utile, quindi viene indicizzato dai motori di cerca, viene condiviso dagli utenti e quindi usiamo questa tecnologia del content marketing. Voi riuscite a tracciare i vostri link e capire quale sia la strategia migliore, immagino, in prima persona. Certo, 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 misuriamo chiaramente tutto perché insomma è quello che facciamo di professione. Perfetto. Differenze principali che avete notato spostandovi dall'Europa a qua, appunto sempre mercato internazionale, ma il fatto di poter poi avere un contatto fisico con una faccia, con un utente, non con un telefono, qual è stato il vantaggio poi effettivo anche a livello, al di là dei contatti, degli investimenti, tutto sul cliente qua? Beh, è molto importante avere un contatto fisico proprio con il cliente e poter capire quale sono le sue reazioni a una nuova feature, piuttosto che avere dei consigli da parte del cliente. Noi già tutti i giorni abbiamo circa dei contatti con più di 50 utenti, quindi via email, via telefono, eccetera, eccetera, ma poter andare, per esempio ieri abbiamo fatto un evento dove abbiamo raccontato quello che facciamo e abbiamo incontrato una sessantina di persone che ci hanno esposto i loro dubbi, piuttosto che dato proprio dei consigli con delle cose che magari implementeremo in futuro. Quindi è importante essere proprio nel mercato dove il prodotto viene utilizzato. Ecco, secondo te, voi che vi siete spostati qua, è un po' la domanda che stiamo cercando, a cui stiamo cercando di trovare una risposta qua nel nostro tour americano, diciamo così. È ancora qua il Golden State? L'età dell'oro è ancora quella californiana? O oggi ha senso anche guardare ad altre realtà per espandere il proprio business e per spostarsi, diciamo. Secondo me oggi il top sostanzialmente è quello di essere remote, quindi di non avere una sede fissa, una collocazione fissa, ma di poter essere in grado di lavorare veramente a tutto il mondo. E questo è quello che noi facciamo, perché noi non siamo solo qua, noi siamo anche a Dublino, siamo a Roma e siamo anche in Est-Europa, ma le persone che lavorano per noi non devono necessariamente venire in ufficio, possono lavorare da dove li pare, possono anche andare a fare due mesi, un viaggio e lavorare, che ne so, da qualche paese asiatico o da qualche isola tropicale. Quindi questo secondo me è il futuro e lo stanno già facendo delle aziende abbastanza famose. Detto questo, San Francisco e la Silicon Valley rimangono di gran lunga i posti dove si può acquisire maggiore conoscenza in questo mondo, maggiori contatti, maggiore idee. Quindi rimane sicuramente un posto da almeno visitare per un lungo periodo per chiunque voglia fare l'imprenditore sul web. Questo è il nostro consiglio, il mio consiglio. Chiunque abbia un po' di soldi per riuscire a sopravvivere nella giungla di San Francisco, che effettivamente non è proprio economico. È molto costoso, effettivamente è molto costoso, quindi bisogna veramente avere un pochino di soldini o comunque avere molta pazienza e cercare di adattarsi, perché sì, effettivamente il grosso problema è il costo della vita, il costo di ogni giorno. Complimenti, penso voi siete una delle poche in realtà rivenute qua a Bootstrap e continua ad esserlo. Voi qua siete anche alla ricerca di investimenti, di finanziamenti. Qual è il vostro impatto, qual è stato l'impatto che avete avuto con questa realtà invece? Tutti pensano andiamo in California e prendiamo finanziamenti da 5-10 milioni come da noi e da 50-100k. È effettivamente così semplice entrare in contatto con gli investitori? È molto più semplice che in Italia perché sicuramente qua girano tantissimi più soldi. È pure vero che ci sono delle regole da seguire, quindi bisogna intanto capire quali sono queste regole, bisogna fare in modo che il proprio progetto sia disegnato in modo da poter essere comunicato agli investitori che hanno un loro linguaggio e quindi quello che abbiamo fatto e quello che ho fatto io, prima di tutto mi sono studiato diversi libri che peraltro potete anche andare a vedere online, davide.link, quindi come uso? Davide.link slash 10 iscritto al numero books e si vedono i 10 libri più interessanti che consiglia tutti gli imprenditori web di leggere. Sì, detto questo è sicuramente più semplice ma non è così semplice, insomma si tratta sempre di convincere un investitore e poi bisogna sempre ricordare che una volta presi i soldi sia solo all'inizio del progetto, a quel punto bisogna iniziare a lavorare seriamente a lavorare duro. A quel punto si hanno un po' più responsabilità da prendersi anche verso esterni che non è mai semplice. Perfetto Davide, ci hai dato un sacco di consigli utilissimi, ultima cosa che ti chiedo, come facciamo sempre, sono tre consigli che daresti a un neo imprenditore, a un qualcuno che si butti in questo mondo, che secondo te deve avere in testa, magari anche se voglia venire qua a San Francisco o se voglia comunque avviare la propria start-up. Allora, prima di tutto consiglio di pensare a un'idea che sia assolutamente unica, non vale la pena di fare un qualcosa che altri hanno già fatto e magari di migliorarla di poco e su questo uno dei libri più interessanti è Zero to One di Peter Thiel e direi sicuramente di leggerlo. Come seconda cosa consiglio di venire qui in California anche un breve periodo per capire come veramente funziona il mondo delle start-up e come terza cosa di non avere paura e buttarsi nello sperimentare la propria idea invece che stare lì e pensare, pensare, pensare. Ecco, è meglio non avere rimpianti. È una delle cose più difficili di solito, iniziare, buttarsi, andare sul mercato, soprattutto quando il prodotto non è perfetto, spesso si ha qualche dubbio, poi si capisce che in realtà bisogna andare e basta. Perfetto, grazie mille Davide e alla prossima. Bene, grazie. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.